Ancora non è scattato l'allarme rosso, ma l'aumento dei casi registrati in Sardegna dall'inizio di luglio inizia a preoccupare le autorità sanitarie, anche perché lo spauracchio è rappresentato dalla diffusione della variante Delta che ormai sta soppiantando quella inglese. Anche in Sardegna i nuovi positivi fanno registrare questa nuova mutazione del virus, più contagiosa anche se meno aggressiva, perlomeno nei soggetti vaccinati. A luglio sono contati 309 nuovi casi di coronavirus, con una media di 25 al giorno, numeri che ancora non hanno avuto per fortuna alcun impatto sugli ospedali, dove ci sono in terapia intensiva due ricoverati, mentre 39 lo sono in area medica. Ma si guarda cosa potrebbe succedere a fine estate, dopo un paio di mesi di ripresa a pieno regime, la vita sociale e comunitaria, sia pure con alcune importanti restrizioni. La via maestra rimane quella di completare per il maggior numero di Sardi il ciclo vaccinale. Ad oggi le dosi somministrate sono 1.560.681, di queste 931.043 sono prima dose o monodose, 615.605 sono seconda dose. Oltre un terzo di Sardi il vaccinato, ma corre a portare al termine il programma entro settembre per evitare un autunno caldo sul fronte dei contagi. La macchina vaccinale è ormai entrata a regime ed è in grado di inoculare 20.000 dosi al giorno, ma si sta scontrando con un rallentamento nella consegna dei vaccini. A lanciare il nuovo allarme il commissario dell'ATS Massimo Temussi. In settimana dovrebbero arrivare 20.000 dosi Pfizer, anche se mancano l'appello, 45.000 dosi di AstraZeneca per completare il ciclo vaccinale degli over 60. Serve mettere in sicurezza questa fascia d'età per evitare un aumento dei recovery. Altro punto critico è quello dei giovani. In questo caso sono a buon punto le prenotazioni sulla piattaforma di posti italiane, ma la carenza dei vaccini sta facendo slittare le prime inoculazioni a settembre con tutti i problemi connessi alla ripresa dell'attività scolastica e sportiva.